Un nuovo film intitolato Papa Francesco, un uomo di parola, è uscito al cinema il 18 maggio 2018, in seguito alla serie tv della CNN in sei parti intitolata Il Papa, l'uomo più potente della storia. Il nuovo film promuove l'idea che, con il crescere dell'instabilità, il mondo ha un disperato bisogno di un'autorità morale, il cui messaggio possa unire l'umanità. Sia la serie della CNN che il nuovo film presentano l'idea che la persona più potente a cui possiamo guardare e la persona più affidabile su cui possiamo fare affidamento è niente di meno che Papa Francesco. Papa Francesco stesso sta sicuramente facendo la sua parte nel rafforzare questa percezione. La sua ormai famosa enciclica sul cambiamento climatico si rivolge ai capi del mondo e afferma di offrire soluzioni sensate ai problemi del nostro mondo. Nei suoi viaggi nel mondo, Papa Francesco si incontra con regolarità con i rappresentanti delle principali religioni del mondo, cena persino con alcuni dei politici più potenti del mondo. Nei suoi discorsi papali, appelli radiofonici, tweet su Twitter e nel suo tanto pubblicizzato appello al congresso americano nel 2015, Papa Francesco affronta molti dei più pressanti temi dell'umanità. Papa Francesco ha anche un'immagine pubblica unica. Non indossa un abito e una cravatta come gli altri leader mondiali, ma indossa un vestito fluttuante bianco puro, mentre parla di Dio, dell'amore, della pace e dell'aiuto ai poveri. Cosa ci può essere di sbagliato in tutto questo? Potreste pensare. Diamo un'occhiata veloce a una profezia incredibile che si trova nel capitolo 13 dell'ultimo libro della Bibbia, che è il libro dell'Apocalisse. Apocalisse capitolo 13, versetti 8 e 9 dicono così. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Se uno ha orecchi, ascolti. Il versetto 8 indica un tempo in cui tutto il mondo adorerà e seguirà un nemico di Dio misterioso e travestito, chiamato la bestia. Quando questa profezia si avvererà, le masse brulicanti della terra non avranno idea del fatto che staranno in realtà adorando la bestia. Se così non fosse, non la adorerebbero, ma non lo sanno. Un motivo è che la bestia non dice sono la bestia. Invece questa bestia afferma di rappresentare Dio e Gesù Cristo, ma sotto un travestimento brillante, la Bibbia dice che c'è una bestia. Chi è questa bestia? Diamo un occhio ad alcuni indizi. In Apocalisse capitolo 13, versetto 2, nello stesso capitolo, ecco cosa leggiamo. La bestia che io vidi era simile a un leopardo. I suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Perciò questa bestia in realtà è una combinazione di tre altre bestie. C'è un leopardo, un orso e un leone, tutti mescolati insieme. Poi il dragone dà a questa bestia mescolata la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Per coloro tra di voi che sono familiari con le profezie della Bibbia, è molto chiaro che questo versetto, Apocalisse 13, 2, è direttamente collegato con Daniele capitolo 7 nell'Antico Testamento, che parla di un leone, di un orso e di un leopardo e di una creatura simile a un dragone. Daniele capitolo 7, versetto 23, dice chiaramente che in Daniele 7, quelle quattro bestie simboleggiavano la crescita e la caduta di quattro grandi regni o nazioni storiche. Daniele 7, versetto 23, dice, ed egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra. Il versetto 1 di Daniele 7 dice che Daniele viveva nella nazione di Babilonia quando fu data questa profezia. Storicamente, e profeticamente, quelle quattro bestie in Daniele 7, il leone, l'orso, il leopardo e la creatura simile al dragone, rappresentano le nazioni di Babilonia, Persia, Grecia e Roma. La bestia in Apocalisse capitolo 13, che il mondo adora, che è una combinazione del leone, dell'orso e del leopardo, ci dice che questa bestia combinata contiene davvero degli elementi dell'antica Babilonia, dell'antica Persia e dell'antica Grecia. Ma qui c'è il punto nodale. Apocalisse 13, 2 dice che la quarta creatura, che era l'impero romano, avrebbe dato alla bestia combinata la sua potenza, il suo trono e grande autorità. La parola trono si riferisce al trono del governo. Il trono del governo dell'antico impero romano era nella città di Roma stessa. Ora, non perdetevi questo. Secondo Apocalisse 13, versetto 2, questo sarà esattamente il luogo in cui avrà sede il governo della bestia. Apocalisse 13, versetto 2, dice il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Quando mettete insieme chiaramente questi pezzi, scoprite che il quartier generale di questa bestia combinata sarà all'interno della città di Roma stessa. Ecco altri indizi. Il versetto 4 dice che tutta la terra dirà chi è simile alla bestia. che significa che saranno tutti meravigliati della potenza e dell'influenza della bestia. Il versetto 5 dice, e le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. Ciò significa che la bestia affermerà di avere grande autorità da sola e farà grandi affermazioni da sola. Affermerà di parlare per conto di Dio stesso e di rappresentarlo. Nel versetto 7, la Bibbia ci dice che le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli. Questo significa che se guardate la storia, questa bestia ha perseguitato il popolo di Dio. Poi il versetto 8, che abbiamo già letto all'inizio, dice che alla fine dei tempi l'adoreranno tutti gli abitanti della terra. Questo vuol dire che i popoli della terra rispetteranno, onoreranno e guarderanno a questa bestia per avere guida e aiuto. Se studiate attentamente la storia, scoprirete che c'è un solo potere in tutta la storia che si adatta a ogni dettaglio di questa profezia, ed è il sistema della Chiesa Cattolica Romana, incentrato sull'autorità teoricamente infallibile del Papa. È un dato di fatto che il quartier generale della Chiesa Cattolica Romana oggi è proprio nella città di Roma stessa, proprio come la profezia predice. È un dato di fatto che i papi di Roma fanno grandi affermazioni su se stessi, dicendo di essere gli unici rappresentanti di Dio sulla terra. È un dato di fatto che i papi si diano da soli dei titoli che nessun altro leader religioso usa, come Papa, come Santo Padre o come Sua Santità. È un dato di fatto che quando la Chiesa Cattolica Romana ha governato in Europa durante il Medioevo, ha perseguitato milioni di cristiani che credevano nella Bibbia, che si rifiutavano di riconoscere l'autorità del Papa. Molti di questi cristiani furono terribilmente torturati dall'inquisizione e bruciati sul rogo. È un dato di fatto anche che oggi si guardi al Papa come l'autorità religiosa più potente al mondo. La profezia della Bibbia si sta avverando, proprio davanti ai nostri occhi. Ma Apocalisse capitolo 13, versetti 8 e 9 predice che non tutti adoreranno la bestia. Leggerò di nuovo quei versetti. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Se uno ha orecchi, ascolti. L'agnello non è niente meno che il Signore Gesù Cristo stesso. L'agnello ha anche un libro speciale, chiamato il libro della vita, in cui sono tutti i nomi di coloro che lo seguono e lo adorano sopra ogni uomo mortale, incluso Papa Francesco. Coloro che sono nel libro della vita dell'agnello amano Gesù, amano la Sua parola santa, si sono pentiti dei peccati e si sono affidati a Lui solo. Hanno sintonizzato le loro orecchie spirituali sullo Spirito Santo e ascoltano quello che Dio ha da dire nella Sua profezia sacra, anche se non è di moda. Ascoltano attentamente la Sua voce. Cosa mi dite di voi? Ascoltate quello che Dio dice nella Sua parola? Da che parte starete? Starete dalla parte della bestia o dalla parte dell'agnello? Da che parte siete proprio ora? Gesù Cristo è l'agnello che è stato immolato. Secondo la Bibbia, Lui ama i cattolici, ama i protestanti, i repubblicani, i democratici, gli ebrei, i musulmani, gli atei e tutti gli altri. Secondo questo libro ama voi ed è morto per voi e per tutti i vostri peccati duemila anni fa su una croce crudele fuori da Gerusalemme. Nessun uomo mortale può farlo, incluso Papa Francesco. Vi invito a dare la vostra vita a Gesù, a studiare le sue profezie e a prepararvi al suo ritorno a breve. Se lo farete, non ve ne pentirete. Sarete felici per sempre nel regno eterno di Dio.